Allora adesso parliamo dell'incendio che si è sviluppato nel pomeriggio in un'azienda di solventi nella zona industriale di Cerne di Pineto. Il rogo ha dato origine ad una grande colonna di fumo che è stata visibile anche da chilometri dai comuni limitrofi. Sembra che abbia preso fuoco un muletto vicino a delle vernici. Sul posto sono arrivate diverse unità dei vigili del fuoco della provincia di Teramo. L'azienda è la Chemipol e produce appunto solventi e diluenti. La polizia locale ha esortato i cittadini a rimanere in casa e non uscire fino a quando l'incendio non sarà del tutto spento, se possibile. Le amministrazioni comunali di Pineto, Roseto e Atria hanno invitato la popolazione a seguire gli aggiornamenti ufficiali e a tenere chiuse porte e finestre proprio per limitare l'ingresso di fumo nelle abitazioni. Avevo parlato poco fa con il sindaco di Pineto Alberto Dell'Orletta che era disponibile per un collegamento telefonico ma al momento la linea non risulta attiva, non risulta possibile contattarlo. Comunque il sindaco mi ha già detto che l'incendio è sotto controllo, non è ancora domato, ma la situazione è sotto controllo. Mi ha confermato che non ci sono assolutamente feriti e i dipendenti dell'azienda hanno evacuato la struttura appena viste le fiamme. Qualcuno ha parlato anche di un'esplosione che ha preceduto proprio il rogo. Sul posto è comunque già arrivata la squadra dell'Arta, l'Agenzia regionale per la tutela ambientale per i necessari prelievi di campioni di aria e di acqua di spegnimento da analizzare poi in laboratorio anche per valutare l'eventuale pericolosità di questi fumi. Dunque tutta la rete del monitoraggio è stata...